A preso via la prova per Borrello Riccardo, Mare, Serenica, Sluca, Renata, Vincenzo, Silva, Paolo, Rossi, Bossi, Riccardo. Abbiamo visto sfricciare davanti a noi, davanti a loro ancora un giro completo prima di chiudere questa fase di qualifica, questa prova di carattere preliminare che ha il compito di selezionare i primi secchi e i migliori per le batterie che ti hanno disputato. Sono già leggermente pronti per lo sprint conclusivo, 42 e 82 risulta essere il loro tempo. A preso via anche la finale, il Signor Massi, questa prova di velocità di 10-100 metri in sprint. Noi ammenti che hanno appena superato il passaggio dell'opportunità di passare a loro, questo ultimo giro da contere a tutte le velocità, il gruppo si dispone sulla rettiline con rapporto a questo riguardo abbastanza allungato nel giro e viviamo all'inizio di scuola in questo agonamento, pronti per la parata conclusiva e ancora arriva anche per la testa finale. Molto bene, si chiude.